Parisa di Christophe Ammazza Ti lanciamo una fila Quanti siete? Voglio lo strema del Napoli sul cappuccino Ti accontento subito E invece per te caro? Rai Raptor Dai tranquillo non ti vergognare Dici dici Rai Raptor su cappuccino Ok te lo faccio subito Andiamo Vedi Raptor che bello E per te invece? Vorrei lo strema dell'Inter sul cappuccino Eccolo il migliore grande Vieni qua vieni batti 5 Bello Dai 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 E invece per te? La cappuccina di Sonic Sonic Volo blu Alvarista di? Il top Ciao!